E adesso rimanete qui perché andremo subito ad eseguire la quarta ed ultima figurazione, i travel in volta a destra e a sinistra, che comunemente chiameremo criss-cross. Benissimo, come avete visto questa figurazione è bellissima e loro l'hanno eseguita in modo meraviglioso come al solito. Adesso lasciamo subito Annalisa e vediamo i passi dei travel in volta con Stefano. La preparazione sarà col peso sul piede destro, questa volta il piede sinistro sarà puntato a lato. Eseguiremo il primo passo incrociato avanti col piede sinistro, eseguiremo una leggera elevazione, come avete visto, nel passaggio della gamba avanti, per finire col peso sul piede sinistro e il ginocchio piegato. A questo punto eseguiremo una leggera elevazione per spostare sul secondo passo il piede destro a lato e ritorneremo sul terzo passo col piede sinistro incrociato avanti e le ginocchia piegate. Come avete visto il piede dietro, il tacco del piede dietro non si abbasserà mai. A questo punto continuiamo eseguendo nuovamente il passo al lato col piede destro, quindi saliremo, sposteremo il passo al lato e riporteremo il sinistro incrociato avanti con le ginocchia piegate e il tacco del piede dietro sempre sollevato. Un'ultima volta faremo lo stesso passaggio, leggera elevazione, passaggio sulla mezza punta del piede destro e ritorno sul piede sinistro incrociato davanti, peso su tutto il piede sinistro, ginocchia leggermente piegate e chiuse e piede destro puntato, peso sulla mezza punta. Il cavaliere nell'intera figurazione si è spostato su ogni passo verso destra con una graduale rotazione verso sinistra per un totale di un quarto di giro a sinistra ed è finito, ha finito la sua figurazione su una nuova linea. Da qui partiremo per i travel in volta a sinistra. Sul primo passo, con la preparazione che già conosciamo, quindi di leggera elevazione, Stefano passerà il piede destro da dietro a davanti fino ad incrociare il piede sinistro. Il peso sarà sul piede davanti, le ginocchia flesse, il piede dietro puntato. Da qui partiremo con il passo a lato, sinistro di sinistro, il piede sarà puntato, quindi manterremo l'elevazione per poi ritornare con il passo successivo sul piede destro avanti, ginocchia piegate. Come vedete il passo è nuovamente incrociato. Da qui di nuovo piede sinistro a lato in elevazione, piede destro avanti, peso su tutto il piede, ripeto ancora una volta questi due passi, sinistro a lato, destro avanti, finisco con le ginocchia piegate chiuse, peso sul piede destro avanti, piede sinistro dietro con il tacco che non si è mai abbassato, l'intera figurazione questa volta si è spostata verso sinistra su ogni passo, c'è stata una graduale rotazione verso destra fino ad eseguire un quarto di giro a destra e finire nuovamente nella linea precedente. Bene, adesso rivedremo con Stefano tutti i passi della figurazione contandoli. Io conterò sempre una E di preparazione prima del primo passo e 1 a 2 a 3 a 4 e 5 a 6 a 7 a 8. Benissimo, come avete visto questa volta la figurazione ha preso una frase di otto tempi per cui ho continuato a contare da 1 fino a 8 per facilitare appunto il conteggio. Adesso vediamo la figurazione con Annalisa, grazie Stefano, per quanto riguarda i passi della dama. La preparazione per la dama sarà col peso sul piede sinistro e piede destro puntato a lato. A questo punto saliremo per far passare il piede destro e finire incrociato avanti rispetto al piede sinistro che rimarrà dietro con il tacco sollevato, le ginocchia piegate e il piede destro completamente poggiato a terra. Sul secondo passo in elevazione Annalisa passerà il piede sinistro a lato per poi tornare sul terzo passo incrociando il piede destro col peso completamente sul piede destro e la gamba flessa. Continueremo portando il sinistro a lato e nuovamente il destro avanti e ancora una volta sinistro a lato, destro avanti. Benissimo, a questo punto passeremo con il travel in volta a destra per Annalisa e salendo faremo questa preparazione per poter passare da dietro il piede sinistro a davanti fino ad incrociare il piede destro. Il peso sarà completamente sul piede sinistro e il piede destro rimarrà dietro puntato, quindi con il tacco sollevato. Le ginocchia sono sempre chiuse in questa posizione. Continuiamo con il secondo passo andando al lato sul piede destro, rimaniamo in elevazione per poi tornare avanti sul piede sinistro. A questo punto ripeteremo i passi al lato col piede destro, avanti piede sinistro e nuovamente al lato piede destro, avanti piede sinistro. Come avete visto anche per Annalisa il tacco del piede destro non si abbassa mai, mentre il sinistro finisce sempre con l'appoggio su tutto il piede e le ginocchia piegate e chiuse. Adesso andiamo a contare la figurazione Annalisa. Conterò sempre la preparazione con una E. E, 1, A2, A3, A4. Come abbiamo visto, anche per la dama, su tutti i passi c'è uno spostamento verso destra e verso sinistra. Sui primi passi c'è uno spostamento verso sinistra su ogni passo e una leggera graduale rotazione verso destra fino ad eseguire un quarto di giro a destra. Nella seconda parte c'è uno spostamento su ogni passo verso destra e una graduale rotazione a sinistra fino ad eseguire un quarto di giro a sinistra e finire sulla nuova linea. Grazie Annalisa. E adesso vediamo insieme questa figurazione con Stefano e Annalisa. Partiremo in posizione chiusa, in promenade, con una rotazione maggiore rispetto a quella della figurazione precedente. Quindi Stefano sarà ruotato un quarto a sinistra rispetto alla posizione chiusa e Annalisa un quarto a destra. A questo punto sul primo passo Stefano staccherà abbassando il braccio destro per permettere al braccio sinistro di Annalisa di passare, di abbassarsi e passare sotto il braccio sinistro di Stefano. Continuiamo. Uno, a due, a tre, a quattro. Come avete visto nella parte finale, uomo e dama sono nuovamente uno di fronte all'altra. Adesso inizieremo la seconda parte della figurazione. Annalisa passerà nuovamente sotto il braccio di Stefano. E uno, a due, a tre, a quattro. Come avete visto, anche questa volta finiranno nuovamente uno di fronte all'altro. Attenzione a ruotare gradatamente per rimanere sempre in una posizione parallela e non essere troppo distanti. Grazie mille Stefano e Annalisa. Adesso andiamo finalmente a vedere questa figurazione con la musica. Io ve la conterò. Uno, due, tre, a quattro. Uno, a due, a tre, a quattro, cinque, a sei, a sette, a otto. Benissimo. Grazie.